Arrestarli. Inarrestarli. La prossima band mi ha chiesto di non leggere questo biglietto, ma... Maledizione. Io voglio leggerlo comunque. Perché l'ho scritto io. Ed è la verità. Io vado pazzo per questa band. È la band migliore di tutti i tempi. Punto e basta. Signore e anche signori. I tenecius di... Ehi, come va? Abbiamo scritto questa canzone cinque minuti fa. Si chiama Master Exploder. ... I do not need A microphone My voice is fucking Oh 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 Close up I did not mean You did not mean To blow your mind To blow your mind With that shit I'm a kid I'm a kid I'm a kid I'm a kid Take a look Take a look Tell me what do you see What do you see We've got something there Just to be I'm a kid I'm a kid I'm a kid J.E. J.E. J.E.